Un allarme grave e urgente arriva dai rappresentanti della funzione pubblica CGL, vigili del fuoco della BAT. La carenza del personale di questa zona è diventata estremamente critica con cifre che superano il doppio della media nazionale e questa è la denuncia dei rappresentanti della funzione pubblica CGL. La situazione è stata esposta anche durante un incontro recente presso il comando di Bari con il sottosegretario del Ministero degli Interni, l'onorevole Prisco, e il capo del corpo dove sono stati affrontati problemi nei quadri organizzativi del comando della BAT. Secondo i dati presentati dal coordinatore funzione pubblica CGL, vigili del fuoco BAT, Ruggiero D'Aronzo, e dal responsabile territoriale Giuseppe Rizzi, la pianta organica del comando provinciale presenta un deficit di base di 14 unità qualificate e 4 vigili permanenti. La carenza dei autisti è particolarmente critica portando ad un peggioramento nel soccorso con prospettive preoccupanti. Ormai il ricorso allo straordinario è diventata normalità, affermano D'Aronzo e Rizzi. La mancanza endemica di autisti creerà con i prossimi passaggi di qualifica un peggioramento nel soccorso, poiché molti autisti siano prossimi al passaggio di ruolo per assicurare un efficiente soccorso dovranno alternarsi giornalmente nella guida e nel ruolo di capopartenza. I rappresentanti sindacali sottolineano che i dati nazionali evidenziano un aumento significativo degli interventi, superando il milione nel 2023, con un incremento di carico di lavoro superiore al 30%. La situazione è affrontata principalmente assegnando pacchetti di ore di straordinario trimestrale, ma questo copre solo una frazione minima della carenza effettiva, oltre a causare un aumento del carico di lavoro e un rischio maggiore di infortuni. La soluzione proposta è quella di rivedere i decreti ministeriali sulle piante organiche, assumendo anticipatamente nuovi vigili in vista di passaggi di qualifiche e pensionamenti. Solo così si potrebbe sperare di azzerare lo squilibrio. I sindacalisti sottolineano anche l'importanza di aprire un distaccamento per ridurre le distanze tra il comando e i comuni di Minervino, Spinazzola e tutta l'Altamurgia, in modo da garantire un pronto intervento più tempestivo su un territorio così ampio.